Eccomi qua, fatto! Le notizie del TG Ora, il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato oltre 2.200 banconotte contraffatte per un valore complessivo di quasi 70.000 euro divisi in mazzette dal taglio di 20 e 50 euro. I soldi erano in una fiat multiple a bordo della quale c'erano due italiani individuata nei pressi dello svincolo autostradale in direzione Roma. Insospettiti dall'atteggiamento dei passeggeri, i finanzieri hanno proceduto a un approfondito controllo del mezzo rinvenendo nascoste all'interno del portabagagli dell'auto 5 voluminose mazzette di euro falsi fresche di stampa e ancora a volte il cellofan. I responsabili, un sardo e un calabrese, sono stati denunciati a piede libero dalla locale procura della Repubblica. Ulteriori ispezioni hanno consentito inoltre di individuare anche la disponibilità di 5 banconotte in valuta estera del taglio da 100 dollari americani, da 5 a 50 mila e i rumeni e da 20 cedi ganesi. L'ex presidente della mostra d'Oltremare Andrea Rea e l'ex sovrintendente Adele Campanelli verso l'archiviazione per il caso Appaltopoli. È un'ipotesi che prende corpo dopo la lettura degli ultimi avvisi di chiusa inchiesta notificati dalla procura. Ci sono 63 avvisi di chiusa inchiesta, mancano Rea e Campanelli a distanza di 9 mesi dal blitz dello scorso 15 marzo. Attendono invece la richiesta di processo Pasquale Sommese, tornato in consiglio regionale ed ex assessore dell'Aggiunta Caldoro, il cugino Antonello, oggi reo confesso, ma anche docenti ed esponenti della borghesia. Una lettera al sindaco di Napoli Luigi De Magistris, a firma di un gruppo di commercianti e stilisti napoletani per comunicargli senza mezzi termini in maniera ufficiale il totale disappunto circa la vicenda alluminarie. Si dichiarano indignati i firmatari di quel documento per tre ragioni. La prima riguarda il ritardo sconcertante e inammissibile con cui le luci di Natale sono state installate in gran parte delle strade cittadine. La seconda, lo squallore e la bruttura di vecchie decorazioni di scarto montate a pochi giorni dalla vigilia delle vie del centro. La terza invece è la totale e inaccettabile mancanza di programmazione. I carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti in un'area verde pubblica tra via Tertulliano e via Romolo e Remo recintata abusivamente da ignoti. Marciapiedi e aiuole risultavano occupate da gabbie, casotti e lamiere, costituendo ostacolo, pedicolo e minaccia per i residenti. All'interno delle recinzioni abusive c'erano due pitbull tenuti in condizioni igienico-sanitarie non idonee, uno fin anche privo di microchip. L'area è stata presidiata dai carabinieri, dalla polizia locale e dai carabinieri forestali del CITES, fino al completamento di demolizione e smaltimento dei 23 manufatti mediante macchine del servizio autoparco comunale. E non c'è pace per i mercatini di Natale. A Salerno gli espositori denunciano i continui furti all'interno delle casette di legno dove si espongono i prodotti tipici e non solo. Dopo i prodotti di salumeria sarebbero stati sottratti ad uno degli espositori diversi barattoli di tonno ed altri generi alimentari di ingente valore economico. Gli espositori sono preoccupati per questa situazione anche in previsione del grande afflusso che ci sarà per la vigilia di Natale e quella di Capodanno con le casette che rimarranno incustodite. E nella serata di ieri sono stati resi noti tutti i partecipanti della categoria Big che parteciperanno al prossimo festival di Sanremo, giunto alla sua sessione qui mediante macchine del servizio autoparco comunale. E non c'è pace per i mercatini di Natale. A Salerno gli espositori denunciano i continui furti all'interno delle casette di legno dove si espongono i prodotti tipici e non solo. Dopo i prodotti di salumeria sarebbero stati sottratti ad uno degli espositori diversi barattoli di tonno ed altri generi alimentari di ingente valore economico. Gli espositori sono preoccupati per questa situazione anche in previsione del grande afflusso che ci sarà per la vigilia di Natale e quella di Capodanno con le casette che rimarranno incustodite. E nella serata di ieri sono stati resi noti tutti i partecipanti della categoria Big che parteciperanno al prossimo festival di Sanremo, giunto alla sua 68esima edizione. Soddisfazione per Napoli che verrà rappresentata con il duo inedito Enzo Avitabile, Beppe Servillo e Giovanni Colors provenienti dai Talent Show. Ecco questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo TG. Il 27 febbraio, io stacco.